Si vede che siamo durante il weekend, si vede che è arrivata l'estate perché in mezza giornata la spiaggia ha cambiato completamente molto. Ci sono un sacco di famiglie, c'è un sacco di gente, c'è un sacco di bambini che hanno il coraggio di farsi il bagno. Uno ha detto che voleva farsi il bagno, no? Fa caldo ma ancora non troppo per i miei gusti, non abbastanza. Vi facciamo vedere un po' intorno com'è cambiata la situazione da stamattina in quattro ore. Comunque è veramente piacevole questo pezzo di spiaggia perché possiamo chiamarlo così ed è ben curato perché la mattina, stamattina poi ci siamo accorti che hanno pulito la spiaggia. Sì, diciamo che non ci vuole nemmeno un anno per pulirla perché è una spiaggia talmente addopiccola che se lo facessi col rastrello in un'ora avrei finito, però è curata. Si sta pure un campo da palla a volo e poi c'è tutta la camminata che costeggia dal lago e quindi è molto conosciuto questo posto. Sì, anche perché siamo in una vallata che è praticamente lontana 300 chilometri, 400 chilometri forse dall'oceano, quindi se non rendevano il lago più balneabile possibile, più accogliente possibile, d'estate qua ti sciogli. Sì, e poi abbiamo notato mentre guidavamo che ci sono un sacco di aree con queste spiagge. Infatti, come dici tu, hanno addibito, sono riusciti a farlo diventare una sorta di mare. Sì, è una sorta di attrazione principale, no? Anche per evadere dal caldo, dall'afa estiva. Sì, è una sorta di attrazione principale, non? Anche per evadere dal caldo, non? Anche per evadere dal caldo, non? Anche per evadere dal caldo, non? Anche per evadere dal caldo. Sì, è una sorta di attrazione principale, non? Anche per evadere dal caldo, non? Anche per evadere dal caldo, non? Anche per evadere dal caldo. Siamo tornati, dopo la giornata travagliata con la polizia, Willow Beach, siamo arrivati a Chelona! Chelona! Cioè che in realtà stavamo già a Chelona, però... Sì, abbiamo fatto avanti e indietro ogni tanto. Sì, no, più che altro quella Willow Beach praticamente era a West Chelona. Adesso siamo invece in pieno centro e passando prima con il van lungo la strada abbiamo notato che c'era una sorta di concerto. Sì. Adesso andiamo a vedere perché sembrava... Erano tutti senza mascherina, quindi sono troppo curiosa di andare. Sì, sembrava un concerto particolare e non so se era a tutti gli effetti un concerto o una manifestazione. Siamo passati, erano tutti senza mascherina e si cantava con qualche scritta. Adesso se ci sono ancora andiamo a vedere meglio. Torniamo e vediamo. Fatto sta che fa un caldo assurdo. Assurdo. 30 gradi forse. Si è scoppiato il caldo dall'oggi al domani. Sì, è arrivata l'estate, quindi ha anche senso. E adesso vediamo un po' intorno com'è. Allora, stiamo passeggiando lungo le vie del waterfront ed è domenica ed è pieno di gente, pieno di zippo di gente. E adesso ci stiamo dirigendo di fronte a questo concerto che però secondo me è una manifestazione. Quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. God bless you, I love you guys. We love Arnold. Thank you Arnold for your graciousness. We love Arnold. We love Arnold. We love Arnold. Alla fine era una manifestazione, cioè era un concerto misto a manifestazione legato alla religione, alla chiesa. Non so quale tipo di chiesa perché non l'hanno specificato. Però stavano praticamente chiedendo in tutti i modi di riaprire le chiese. Sì, la fede, come erano i cartelli, la fede è essenziale, le chiese sono essenziali, quindi riapritele. Insomma, quindi credo che sia stata una manifestazione legata alle restrizioni della British Columbia o del Canada in generale riguardanti appunto la chiusura delle chiese. Ora, non so di quale religione, ripeto, però a quanto pare era una manifestazione religiosa. che si può vivere. E' così, diventa te stesso. Perché il pasto è solo un buon viaggio. E' una bambina. Il waterfront non è altro che una camminata lungo... Lungo il lago. Ah, questo è sempre il lago? Questo è il lago, sì sì. Ok, quindi sempre lungo il lago, tutta alberata, ci sono tante spiagge, tanti parchi e c'è anche addirittura un parco acquatico, un parco giochi per i bambini. Totalmente gratuito. Così d'estate i bambini e le famiglie possono venire qua rispossati. no? Nessuno. Nessuno. Qui si manda, no. E si. Me lo so. No, no. Che i bambini, chiusi. Che i bambini. Che i bambini. Che i bambini. No, no. Nessuno. Ma, no. è così. E' così. E' così. The ones they picked, the ones you know by Don't you ever ask them why, if they told you you would cry Just look at them that time, and know they love you Oh, Mara! Oh, oh, c'ho il cartello per me! Oh, Mara! Mara! Ma che ci fai, Akelona? Oh, Mara! Guardiamo lo stile di Mara, che dice, oh, Mara! Cioè, c'ha lo zaino con... con sotto... No, questo in teoria è il portacavalletto, il portacavalletto per la macchina fotografica, invece io cosa metto? Asciugamani da Mara! Che stile! Dire la flecchia! Scuola, scuola! In un secondo è arrivata la polizia! Asciugamani! No! Oh! C'err? In pratica è un canale artificiale che hanno creato per ridurre il dislivello che c'è tra questo lago artificiale, che è residenziale, quindi dove vivono tutte queste persone con le barche che sono entrate, e il lago naturale, l'Hokanagan Lake, che è molto più basso rispetto a quello artificiale. Quindi hanno creato questo canale che si riempie con l'acqua del lago per portare a livello le barche e farle entrare in questo artificiale. Di conseguenza anche farle uscire, e poi si abbassa, e poi li possono prendere l'acqua del lago. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti. Una città ben tenuta e ben amministrata, lo si vede soprattutto dalla gestione del verde e dalla manutenzione dei parchi. E quello che abbiamo notato qui in Chelona, come lo abbiamo notato anche in Vittoria, è che c'è una cura particolare e attenta ai giardini, ai prati e ai parchi in generale. E questa cura dei giardini, dei parchi e dei prati rende la città, che è comunque sempre un centro urbano, molto accogliente e piacevole. Ma guarda quanto è bella la mare in mezzo a questi fiori rossi. I am beast! Sì scappiamo dal caldo amici oggi la temperatura è arrivata a 31 gradi e eravamo in città quindi si schiattava di caldo stiamo sciogliendo stiamo scappando dalla città di chelona e speriamo stasera di dormire in un posto al fresco insomma in modo tale che tira un po d'aria perché è un canada che non ci aspettavamo di trovare così alto è scoppiato tutto ad un tratto dal giorno dall'oggi al domani e niente quindi insomma vediamo un pochino dove andremo da dormire stasera e in teoria c'è una bella vista però come sempre non vi assicuriamo nulla perché poi magari quando arriviamo non è mai così abbiamo raggiunto un altro posto desolato questa volta non siamo in città quindi si spera stanotte che nessuno ci venga a bussare e soprattutto che non si sentono auto e quindi riusciamo a dormire bene fa un caldo tremendo anche qui però almeno siamo gli unici è un posto che praticamente sta immerso nella natura e quindi possiamo spalancare tutto infatti apriamo di lato c'è anche dietro ci piazziamo ci piazziamo modalità campeggio modalità campeggio on tac prima non vediamo l'ora che sono arrivasse adesso lo copriamo anche questa le somiglianze di un campeggio e sembra che viene utilizzato per anche delle feste o comunque i fine settimana e lo si vede dal fatto che c'è sempre immondizia ad ogni fire pit che non sono altro che queste rocce messe in cerchio dove si fanno i fuochi troviamo sempre sporcizia e in questo caso ci sono quattro lattine di birra adesso le raccogliamo e cerchiamo di sistemare questo posticino nel frattempo vi faccio vedere dove siamo finiti perché qui il panorama è spettacolare e sempre di fronte all'okanagan lake che a quanto pare è infinito perché stiamo andando verso vernon che è la città più grande dopo che l'ona e le due città distano 40 50 chilometri e ancora c'è il lago che è lo stesso da pentington quindi è veramente enorme non so di preciso quanto enorme magari quando c'è internet lo leggo questa era la strada che ci ha portato qui in questo parcheggio noi ci siamo messi là in fondo e strade come sempre non sono delle migliori per raggiungere questi posti come vedete ci sono dei sassi che sono enormi state le condizioni della strada però la cosa positiva di questo parcheggio o se lo vogliamo chiamare campeggio è che è a due passi dall'autostrada o comunque dalla strada principale e infatti le macchine si sentono però un vantaggio perché così non abbiamo dovuto fare questa strada per parecchi chilometri e la vista quella cittadina la e non so se si vede è vernon ed è l'ultimo paese a ridosso dell'okanagan lake quindi per farvi capire le dimensioni del lago che partiva da pentington per poi passare per chelona ed infine vernon e anche questo ragazzi è un posto meraviglioso mi stavo facendo una passeggiata lungo questa strada che tra l'altro non so dove porta e guardate cosa ho trovato un camper che praticamente completamente distrutto ed è stato lasciato qui abbandonato un relitto è una roulotte che è andata a fuoco e hanno deciso di lasciarla qui niente rimane qui in mezzo al nulla il posto dove si era messo questo questo signore a campeggiare non era affatto male adesso torno a casina e vediamo mara cosa sta facendo cosa sta combinando la maretta andiamo a fare una passeggiata c'è una roulotte completamente bruciata giù in fondo sì quindi credo proprio sì non c'è nessuno mi fa piacere dai allora andiamo a fare una passeggiata I'm gonna say I've been feeling the sway for far too long Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti